È lei il padre di Jane e Michael Banks? Dico bene? Ho detto, è lei il padre di Jane e Michael Banks? Beh, ecco, io per principio non do mai referenze. Sono usanzia all'antica, secondo me. Allora, vediamo i requisiti. Punto primo. Che sia buona e paziente. Io non mi arrabbio mai. Punto secondo. Sempre allegra. Lo sono sempre. Punto terzo. Dovrà giocare. Sono certa che i bambini troveranno i miei giochi molto divertenti. E mi scusi, punto quarto. Sempre gentile. Io sono gentile ma anche severissima. Ha perduto qualcosa? Lei è George Banks, sì o no? E ha messo un annuncio per una governante, sì o no? Benissimo, allora. Permette una domanda. È indisposto? E ora, per il mio salario. L'annuncio in questo è piuttosto oscuro. Dobbiamo essere molto chiari su questo punto, le pare? Vorrei avere ogni secondo lunedì libero. Ripensandoci, credo che sarebbe opportuno un periodo di prova. Le darò una settimana e poi deciderò. Ora vado a vedere i bambini. Grazie. Chiudi la bocca, Michael. Non sei un merluzzo. Beh, non restate lì a guardare. Piede destro avanti. Opla! Grazie a tutti!